carissimi fratelli e sorelle gioia e pace in abbondanza a tutti voi c'è un mistero d'amore che dio ha rivelato agli uomini in gesù cristo suo figlio un mistero d'amore sconosciuto agli uomini delle precedenti generazioni ma rivelato soltanto ora con la manifestazione del signore nostro gesù cristo scrive l'apostolo e noi vogliamo iniziare queste breve riflessioni con le parole del salmista che dice solo in dio riposa l'anima mia da lui la mia speranza lui solo è mia roccia è mia salvezza mia difesa non potrò vacillare confida in lui o popolo in ogni tempo davanti a lui aprite il vostro cuore nostro rifugio e dio nostro rifugio e dio sono parole di cui noi abbiamo tanto bisogno in questi tempi fratelli solo in dio riposa l'anima mia tante circostanze ci stanno mettendo nella condizione di ripetere queste parole ma anche di attuarle nella nostra vita di trovare rifugio in dio quando non si può confidare negli uomini non si può confidare nelle istituzioni in dio riposa l'anima mia perché lui è vicino perché lui è presso di noi fratelli perché non si abbandona mai dal suo popolo dio non ritira mai la sua mano non chiude mai il suo cuore e lui è sempre vicino al suo popolo ai suoi figli con attenzione e la richiesta che signore ci fa quando abbiamo visto nella liturgia di a di ieri la povertà di spirito l'apertura del cuore la sua presenza l'abbandona la sua grazia la libertà di farlo agire in noi per lasciarci plasmare come continuo oggi l'apostolo paolo nella prima lettura che ascoltiamo dove lui dice tra l'altro che si affatica con la predicazione con l'insegnamento con l'apostolato per far sì che ogni uomo diventi perfetto in Gesù Cristo nella lettera ai diefesini ripete questa espressione portare tutti gli uomini alla pienezza di Cristo ognuno deve raggiungere la piena statura di Cristo e l'apostolo inizia questo brano che oggi la chiesa ci propone dalla lettera ai colossesi rivelandoci un mistero d'amore fratelli su cui facciamo bene a riflettere e a porre attenzione l'apostolo dice sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne a favore del suo corpo che è la chiesa chiedete in altre parole vedete fratelli ognuno di noi è portatore della grazia di Dio e chi salva è Gesù Cristo ma ognuno di noi è membro di questo corpo di Gesù e quindi il Signore ci associa come membro del suo corpo ci associa nell'opera di salvezza del nostro prossimo allora tu oggi supporti qualche sofferenza con amore offrendola a Gesù per la salvezza delle anime tu partecipi alla sua opera di salvezza completo nella mia carne ricordiamo queste parole do compimento della mia carne a ciò che manca dei patimenti di Cristo cosa manca nel corpo di Gesù non manca nulla ma io sono un membro di questo corpo chiamato a partecipare all'opera di Gesù Cristo per la salvezza della chiesa tante volte ci si lamenta della chiesa che ha i suoi problemi sì è vero la chiesa è fatta di persone di carne e ossa non tutti i membri della chiesa vivono santamente non tutti vivono rettamente ma tu puoi collaborare a questa santificazione del corpo mistico di Cristo attraverso la tua partecipazione sia con la preghiera amando la chiesa e la chiesa va amata come una madre e sia offrendo sacrifici cioè offerte spirituali ricordiamo quello che dice la scrittura qual è il sacrificio gradito a Dio il compimento della sua volontà la sottomissione al suo amor perché lui possa realizzare in pienezza i suoi progetti di salvezza quindi questo è il mistero che l'apostra rivela oggi siamo chiamati tutti ad essere membra vive nel corpo di Cristo per essere collaboratori con lui nella l'opera di redenzione dell'umanità di santificazione della chiesa in secondo luogo l'apostolo aggiunge che questo mistero è stato rivelato solo negli ultimi tempi nel terzo capitolo della lettera agli efessini dell'apostolo di preti dice mi è stato rivelato quel mistero nascosto da secoli cioè che Dio vuole la salvezza di tutti ma come Dio realizza questa salvezza? generando Cristo in noi questo è il mistero in ciascuna persona abita la vita di Gesù la vita del figlio di Dio tu sei figlio di Dio in quanto Dio ha posto in te lo spirito del figlio suo di Gesù Cristo quindi ogni natura umana è dimora dello spirito santo San Paolo nella lettera ai Corinti dice che voi siete tempio di Dio dal momento che lo spirito di Dio abita in voi quindi il mistero di cui parla qui l'apostolo è che Gesù abita in noi la vita di Gesù abita in noi Padre che sia una cosa sola come noi come tu in me io in te sia anch'essi in me sia una cosa sola vedete come Gesù ripete queste parole parla di questa comunione di amore in Gesù Cristo noi siamo in comunione con Dio ma anche in comunione gli uni con gli altri e l'apostolo prosegue dicendo che appunto lui si prodiga nel propagare il Vangelo nell'annunciare la parola per rendere ogni uomo perfetto in Cristo ogni persona deve raggiungere una pienezza di vita ricordate le parole dette da Gesù a una grande mistica fiorentina Santa Maria Maddalena dei Pazzi quando Gesù parlava di rinnovamento della vita parlava di quella maledetta mediocrità che deve scomparire dalla Chiesi cioè quell'essere brava persona non è né cattiva né buona non troppo di Dio né troppo del mondo no Dio vuole che ogni persona raggiunga la perfezione in paradiso si entra quando si raggiunge la perfezione dell'amore e questa perfezione noi la raggiungiamo nell'unione con Gesù Cristo diventando una cosa sola con Lui vivendo per Lui di Lui e con Lui e vivendo del Suo Santo Spirito in Cristo noi veniamo resi perfetti e allora in Gesù Cristo vedate bene fratelli il bambino non nato deve raggiungere la perfezione ma perché? perché anche dopo la morte Dio continua a operare Gesù continua a salvare anche dopo la morte perché? perché è eterna è la sua misericordia la mano del Signore non si accorcia Gesù è il Signore della vita è il Signore della morte e vuol portare anche i defundi alla pienezza della vita quindi questa speranza non ci deve mai abbandonare deve essere sempre presente in noi e l'Apostola conclude questo brano che oggi proclamiamo con queste parole che in Cristo sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza tutti i tesori in Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della divinità tutta la pienezza noi lo dobbiamo credere col cuore questo fratello è il professore Gesù è il figlio di Dio in Gesù Dio si è rivelato in Gesù noi troviamo tutta la pienezza della divinità in Gesù troviamo tutti i carismi in Gesù troviamo tutti i tesori come dice qui l'Apostola della sapienza e della conoscenza perché lui l'amore che il Padre ha rivelato a noi è apparsa la grazia di Dio portatrice di salvezza per tutti gli uomini è apparsa la grazia la vita si è resa visibile e noi l'abbiamo veduta questo è il mistero grande di Gesù Cristo fratelli oggi c'è una tendenza a ridurla a un semplice uomo no in lui abbiamo la pienezza della divinità e nel Vangelo troviamo Gesù che davanti a scrivere fare sei mentre si trovi in una senagoga chiama un uomo con una mano paralizzata e lo guarisce per manifestare che la cosa più preziosa agli occhi di Dio è il bene dei suoi figli ma quel giorno era sabato consagrato il Signore alla gloria del Signore ma Dio è glorificato nel benificare i Suoi figli Dio è glorificato non nella legge non nei regolamenti che davano scrivere per fare sei quell'uomo guarito fu gloria di Dio Gesù glorificò il Padre servendo e quello portandola alla salvezza Signore Gesù rivela anche oggi a tutta la Tua Chiesa questo mistero grande che Tu vivi in noi che in Te c'è ogni pienezza di grazia in Te abita tutta la pienezza della divinità e Tu vuoi portare ogni creatura alla pienezza e alla perfezione della vita della santità della verità grazie Signore che questo mistero oggi sia luminoso che sia che risplende nel cuore di ogni cristiano e nessuno si allontani mai da questa verità a Te sia gloria onore e potenza per tutti i secoli dei secoli Amen e Tu Vergine Santissima come Madre attenta e premurosa ogni giorno accanto a noi opere per guidarti a Gesù Tuo Figlio fate tutto quello che Lui vi dirà Tu ripeti a ciascuno di noi fate tutto quello che Lui vi dirà Vergine Santissima che ogni parola che Gesù ci ha rivolto diventi vita per noi e ci conduca a quella pienezza di grazia che a Te è stata donata fin dal concepimento come Madre del Figlio di Dio si è stata ricolmata di ogni grazia e Tu vuoi che ogni membro del corpo di Gesù sia santo a Gesù la lode la gloria l'onore e la benedizione per tutti i secoli dei secoli Amen e ricordiamo oggi fratelli in Dio riposa l'anima mia solo da Lui la speranza e la salvezza Amen